Eccoci qua, ben ritrovati a tutti in un nuovo video di Wrestling Destination, ma soprattutto, dopo una pausa di qualche mesetto, ben ritrovati in un nuovo episodio di Underrated Matches. Giusto per ricordarci un po' di cosa si tratta, in questa rubrica riporto a mente degli incontri sottovalutati o degli incontri passati in sordina, anche di secondo piano o comunque di puntate settimanali, ma che secondo me meritano una visione e appunto che di conseguenza vi consiglierò. Dopo i primi, se non erro, 15 episodi, oggi torniamo col sedicesimo generale e andiamo in una puntata di Raw del 9 novembre 2020. Protagonisti, da una parte abbiamo Mustafa Lee e da una parte l'attuale wrestler dell'AiW, Ricochet, ai giorni d'Osteri, Ricochet appunto è passato in All Elite Wrestling. Ripeto, puntata del 9 novembre 2020, quindi comunque siamo andati un po' indietro coi tempi, quattro annetti, breve lore dell'incontro. Era la lì della Retribution, una delle stable più fallimentari dell'epoca moderna in WWE, anzi secondo me probabilmente anche insomma del wrestling in generale. Ma perché attaccarono Ricochet? Qual è stato il motivo per cui hanno attaccato Ricochet una settimana prima? Volevano prendere il controllo del roster, diciamo così. Evitiamo ulteriori perché di questa stable, ci sarebbe soltanto comunque da mettersi le mani nei capelli, onestamente. Diciamo che Mustafa Lee poi durante l'incontro l'ha messa anche sul piano come noi Ricochet ti volevamo aiutare, io soprattutto ti volevo aiutare come vecchio amico, mettendoti nella Retribution. Sarebbe stato soltanto davvero scomparire, però è questo. È comunque uno spoiler un po' del futuro. Ma passiamo al match vero e proprio. Posizione della card da notare perché comunque erano nel premium event. Un minutaggio interessante, ovvero 14 minuti. La posizione della card magari dipende se per voi è una cosa da notare o no. Per me sì, però forse in quel periodo non tanto perché comunque erano nel Thunderdome, quindi comunque non c'era l'arena. Ecco, di solito è importante la posizione della card per l'arena, insomma, magari scaldarla di più, scaldarla un po' di meno, farla riposare, eccetera. Però comunque ecco, il minutaggio è sicuramente fondamentale da notare, ovvero quasi 15 minuti. Ecco, quindi gli hanno dato importanza, ecco. Fatto sta che è un incontro che parte subito con, manco a dirlo, perché in quel periodo Mustafali era un po' il maestro del trash talking. Inizia appunto con, un po' a caso lo faceva anche nel periodo Retribution, però vabbè. Inizia appunto con del trash talking che però non si fa intimorire Ricochet. Infatti prende un vantaggio subito, non si è neanche tolto la tutina che aveva su, il giacchetto che aveva su. E subito inizia, subito in quinta, attaccando subito Mustafali senza nessun problema. Ricordo che comunque Ricochet in questo incontro, ma comunque in quasi tutta la faida, era in inferiorità numerica. Considerando che appunto la Retribution aveva diversi membri, c'erano appunto gli altri membri di Quadesta Retribution a Bordoring a sostenere il loro leader, Mustafa Ali. È una contesa che comunque prende un buon ritmo non subito, ma dopo diversi minuti di studio. È accompagnata, tra l'altro, cosa simpatica, tra virgolette, dai ruggiti a Bordoring di T-Bar, che in quel momento aveva quella appunto personaggio un po' strambo di T-Bar, ovvero Dominic Dijakovic, per chi non lo sapesse. Che definirli camaleontici questi ruggiti è pochissimo, cioè è un eufemismo, però lasciamo perdere, ecco, forse stendiamo un velo pietoso che forse è meglio. Ma scherzi a parte, i due si vede che hanno una buona chimica, la confermano. D'altronde si sono sfidati davvero molte volte sia in WWE e comunque sia altrove, lo fanno notare. L'azione spesso avviene sull'Epron Ring, in modo anche da poter richiamare un'interferenza, una possibile interferenza appunto degli scagnozzi di Ali, precedentemente menzionati. Ma almeno per gran parte dell'incontro questi scagnozzi non hanno fatto chissà che, anzi, non sono proprio intervenuti in modo, in maniera importante. Ecco, non hanno quasi mai messo il becco in maniera esponenziale, per fortuna, anche da una parte. La cosa interessante, comunque, tornando ai protagonisti dell'incontro, è che vendono bene i colpi. Nel senso sembra sia per loro un incontro importante. Te lo vendono come incontro importante per loro e vogliono che la gente pensi questo. Come giusto che sia, eh. Diciamo che, comunque, il pallino ce l'ha principalmente dopo la metà dell'incontro Mustafali. Ricochet si riprende spesso prendendo quel campo che lo manda vicino alla vittoria, una certa, con una bellissima Brain Buster. Poco dopo, però, Back Breaker di Mustafali dalla terza corda. È bellissima, è una manovra davvero bella da vedere, che comunque, appunto, vi consiglio di tenere d'occhio. È di vederla bene, appunto, durante... Se rivedete l'incontro. Anche essi lo manda davvero molto vicino alla vittoria. Davvero molto. Però, ovviamente, Ricochet, con un colpo di Reni, riesce a uscire al 2-2,5. Tra una manovra e l'altra, tra una Lee, che ricorda per l'ennesima volta, come dicevo, comunque verso l'intro, che ha attaccato Ricochet per aiutarlo, insomma, per tentare di aiutarlo, arriviamo ai titoli di coda. Alla fine, al the end, con Ricochet che si distrae attaccando gli altri membri della Retribution, invece che chiudere, aiutando a Lee a riprendersi e portarsi a casa la vittoria con una manovra di sottomissione, che l'abbiamo vista poco, poche volte a Mustafa Lee, con una Koji Clutch. È bellissima, tra l'altro, è venuta anche bene, Ricochet l'ha venduta anche molto bene. Vittoria di Malì, che quindi vince questo incontro. Bell'incontro, raccontato anche nel miglior modo possibile dei due, perché comunque, diciamolo, non era chissà che programmato la storia, ecco, non era chissà che, come dire, costruito, chissà che bene. Quindi, comunque, loro l'hanno raccontato nel miglior modo possibile. Azione davvero buona, ripeto, non che dai due così ci aspettassimo meno. Io, però, voglio sapere la vostra. Se vi ricordate di questo incontro, se lo avete visto o se lo recupererete, dopo questo mio suggerimento, spero di sì. La casella commenti è, appunto, aperta sempre per voi. Vi ricordo di lasciarci un like, che comunque ci fa sempre molto piacere, ci supporta. E noi ci rivediamo in un prossimo video, sempre qui, su Frestling Destination. Ciao!